Solo pane, pomodoro e poco altro per questo piatto fantastico! Buon appetito! Alla base di tutto c'è un buon soffritto con olio extravergine e aglio tagliato a fettine sottili e poi aggiungiamo la polpa di pomodoro Questo è un piatto che si fa in tutte le stagioni quindi vanno benissimo polpa di pomodoro passata o pelati ma d'estate anche i pomodori freschi Una bella salata e facciamo andare a fuoco dolce con il coperchio per una mezz'ora abbondante Il nostro sughino è pronto Posso spegnere il fuoco e ci occupiamo dell'altro protagonista della pappa al pomodoro, il pane Questa è una ricetta di recupero che si fa con il pane comune quello che abbiamo in casa quindi in questo caso una semplice pagnotta di pane bianco Naturalmente in Toscana questo pane è spesso sciocco, cioè senza sale Questo è un pane di ieri, quindi non più freschissimo ma ancora abbastanza morbido Puoi utilizzarne anche un'ora fermo che ha più giorni in quel caso la dose di acqua potrebbe aumentare Ma prima di tuffarlo nel sugo vado ad allungarlo un po' con dell'acqua Data la consistenza delle nostre fette possiamo strapparle a metà ed andarle ad immergere così nel sugo Con un pane più secco ti consiglio di fare dei pezzetti più piccoli Si utilizza tutto, anche il culetto con la crosta strappandola un po' più piccola e lasciamo riposare con il coperchio per circa un quarto d'ora Trascorso questo tempo il pane sarà ben imbevuto di sugo Andiamo a regolare con altra acqua Ovviamente se hai un brodo vegetale a disposizione puoi utilizzare anche quello Con il cucchiaio di legno schiaccio bene in modo da sfaldare completamente il pane Accendo nuovamente e faccio cuocere per circa 5 minuti Mescolando bene fino ad ottenere la consistenza perfetta Eccola qua, umida e briciolosa Mancano solo i tocchi finali Regoliamo di sale Un abbondante giro d'olio E tante belle foglie di basilico La nostra pappa al pomodoro è pronta e si può gustare calda, tiepida o anche fredda La mia preferita è tiepida con una spolverata di grana Completiamo ogni piatto con un giro d'olio Immancabile tocco finale di ogni piatto toscano Ancora un po' di basilico E finalmente possiamo assaggiare Questo è veramente il mio piatto dei ricordi Buon appetito! Buon appetito!